Grazie Presidente, colleghi, sicuramente il nostro voto sarà a favore in quanto va a tutela di lavoratori e per noi di qualunque provenienza siano lavoratori naturalmente sono sempre qualcosa da tutelare. Quindi voteremo a favore di questo, soltanto in questo caso questa proposta viene fatta in maniera molto indirizzata a quelle che sono le problematiche di questi lavoratori della base che noi conosciamo e che fa parte del nostro territorio. Avremo una richiesta da fare riguardo l'asso temporale per il quale chiediamo che venga rifinanziato questo fondo e che vorremmo chiedere che venisse tolta la data in modo che si potesse allargare, estendere questa tutela che noi oggi chiediamo per questi cinque lavoratori a tutti i lavoratori che si ritroveranno a perdere il lavoro, che ci si possano essere trovati precedentemente o che ci si troveranno successivamente. Quindi è semplicemente un estendere questo tipo di tutela che noi chiediamo. È l'unico emendamento che vorremmo chiedere a riguardo. Per il resto la proposta sarà da noi sostenuta.